Scusate Scusate Vabbè lei ci lavora lì però Sempre dritto Scusate In pratica è la sfilata Sfilano varie cose Gioielli, abiti da sposa, costumi da bagno Ma perché non ci ha fatto sti lavori a noi? Potevamo se avevamo massimo 16 anni Vabbè io diciamo Vabbè diciamo che siamo 16 anni Però siamo un po' più Più altri Ciluppati Scusate Vabbè io ho 19 anni O io ne sembra i genossi No spera lui dimostra Sempre dritto Sempre dritto rega No e niente Quindi stasera direzione ossea Sfilata e poi Ci stanno con quelli famosi Chi? Quelli del grande fratello Non è vero Mi fa un video meglio Cazzo mi prega Chi è? Quello frocio Si pure Ma chi è? Quello di colore Che dice che ha perso il lavoro ma non cogliere nel merda Quello che ha insultato a Ida Che di questa No aspetta dimmi Quello di colore Sempre dritto va No non mi riga quel lì Non puoi dire queste cose Quello di colore amore Quello di colore Quello mi è stato antico E pure a me E poi è All'inizio sai Mi era simpatico il primo giorno Tu hai ragione a Ida Che gli ha detto che ci abbiamo Ma che cazzo No quella Aisha Ma che cazzo ci frega Vabbè comunque Vabbè comunque regà E' davvero proprio cazzo Vabbè 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 dai Dai vi facciamo vedere dopo Dopo Seremo stasera a Ostia Lo so La sfilata di Ostia Marte Lui Lui non so chi è però Mi sembra uno famoso Poi che c'è sta Guarda Tipo tutti i rincolioniti qua Sì Allora la sfilata di Emo Che cazzo Ma un po' ce cacciano io qua Poi c'è la China Mi fai mettere vicino al campo Al campo Sì Sì Guardate come corre Incredibile Secondo me E' spianato proprio Sono belle Sono più belle loro E quelle che modelle Alzatevi Alzatevi in piedi Fatevi vedere Fatevi vedere Di piello Guarda C'è Guarda Ma questo è sartella proprio Secondo me è abituata a sartellar Guarda Guarda 1,2,3 1,2,3 Ahhhh E' 33 precisamente E' 33 esatto Mo' vedremo Vedremo Speriamo bene Ma il problema non è iniziata E' che noi dobbiamo poter sfilare Siamo in ansia perciò Organizzazione malissima Organizzazione zero Sì non venite mai addosso E questi c'hanno pure i sordi eh Pensate che non c'hanno i sordi Vabbè Ce l'avravo io Vabbè Vabbè Di più di più di più di più Grande Allora Mi raccomando Mi raccomando Chi non resiste Fino alla fine Mi raccomando Non passate al centro Che ci sono tre telecamere Ecco già lei si abbia Non resiste fino alla fine Perché farà tardi Mi raccomando Mi raccomando Non dovete lasciare Perché c'è la telecamera Di canale 10 Ok? Ve lo chiedo gentilmente Allora Siamo pronti? 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 Va bene Di amare Ci sono pronti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedi, tu avendo quei vestiti ti puoi muovere in quel modo. Senza quei vestiti non puoi fare quelle cose. Puoi fare anche una spaccata. 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 Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Praticamente questi fanno indossare i vestiti dei negozi, fanno la pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.